Il cimitero di Valderice risente, come del resto diversi altri campesanti in provincia di Trapani, della mancanza di loculi a disposizione. Una situazione emergenziale, almeno addetta dai consiglieri comunali di minoranza, che necessita di una pronta soluzione. Abbiamo incalzato l'amministrazione a prendere in mano il cuore dei cittadini che lamentano la nostra minoranza e la problematica seria, imprescindibile di arrivare a campo zero. Non abbiamo più posti al cimitero e latita l'amministrazione e la programmazione di misure emergenziali. Non c'è più tempo, bisogna correre e quindi crediamo che sia indifferibile tra tutte le priorità che attanagliano questo territorio valdericino quella di mettere il cuore in mano, visto che anche altre amministrazioni vicinorie nel giro di sei mesi sono riusciti a buttare giù un bel progetto e a iniziare la costruzione dei padiglioni, parlo di Paceco per esempio. Quante salme ci sono in attesa? Noi abbiamo in realtà salme in attesa poche, ma il problema è che noi stiamo occupando i posti venduti antemortem anche di persone che hanno età superiore degli 85 anni, cioè noi posti venduti a gente che ha 85 anni e che speriamo non li occuperà mai, ma capiamo bene che insomma ci sono salme che sono state traslate da un posto all'altro per più di 5 volte solo perché il posto nel frattempo di chi lo aveva acquistato viene occupato, torto collo da chi non c'è più a Valderice e quindi viene fatta questa traslazione di salme che ha un costo soprattutto umano non più sostenibile. L'opposizione manifesta la sua disponibilità in attesa di definire il progetto finanza per individuare la soluzione più immediata per porre fine alla continua pietosa e costosa traslazione di salme. Nel frattempo hanno proposto un emendamento al bilancio di previsione per l'immediata costruzione di un padiglione da 100 posti che possa essere una soluzione tampone al disagio. So che nella maggioranza si stava lavorando anche su questo, ma non abbiamo risultati da 6 anni, amministra stabilito da 6 anni, ma il problema permane. Abbiamo proposto di prendere in mano la problematica del parcheggio di via Baga Camennone a Bonagia dove abbiamo buttato 5.000 euro, il parcheggio di Molina e Cessio del Borgo di San Marco per valorizzarlo, il problema è che non mettono soldi per riparare i corpi illuminanti, le lampadine per capirci, non ci sono soldi, ci vogliamo mettere magari 10.000 euro, non è un bilancio incessato di un'amministrazione incapace a recuperare risorse e a poter programmare quello che Valderice invece merita.